Musica Slitta di due settimane la decisione su chi dovrà gestire la fase temporanea della gamma di Boiano, la regione ha invitato Aria Food, SPI e Avimolisi a formalizzare le offerte e a fornire tutte le garanzie fideiussorie. L'imprenditore Diego Volpe Pasini ha incontrato i sindaci della zona per illustrare il proprio ambizioso progetto, ma soprattutto per chiedere agli agricoltori molisani collaborazione. Comitati e cittadini a confronto e pronti a mobilitarsi contro la razionalizzazione sanitaria prevista dal decreto Balduzzi che trasforma il nosocomio di Termoli in un ospedale base con la perdita di quattro reparti. Piccola schiarita in casa Termoli a livello societario, Calarco resta in carica ma è dimissionario fino al prossimo mese mentre il tecnico Marcello Casu è stato esonerato. Intanto torna in sella come di esse Pino De Filippis già alla ricerca del nuovo allenatore giallorosso. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Come avete appena sentito è slittata di due settimane la decisione su chi dovrà gestire la fase temporanea della gamma di Boiano. La regione ha invitato Aria Food, S.P.A. e Avi Molise a formalizzare le offerte avanzate subordinandole alle garanzie fideiussorie richieste. Obiettivo principale del nostro impegno è il mantenimento dei livelli occupazionali, assicurato il governatore frattura il servizio. Si allungano di dieci giorni i tempi per la ripresa produttiva del polo avicolo molisano. Questo è il tempo utile per permettere ad Aria Food, S.P.A. e alla cooperativa Avi Molise di perfezionare le proposte per la gestione transitoria della gamma e fornire tutte le garanzie fideiussorie. Poi altri quattro giorni perché la regione scelga tra le due uniche proposte pervenute. Questo l'esito del tanto atteso confronto che di fatto non ha chiarito tutti i dubbi che restano ancora sul tavolo. Nel corso del lungo incontro a Palazzo Vitale il presidente della regione Paolo Di Laura Frattura ha illustrato ai sindacati e alle RSU di gamma i contenuti della delibera di giunta regionale approvata alla luce delle manifestazioni di interesse presentate in seguito all'avviso pubblico. L'obiettivo principale ha poi assicurato il governatore Frattura il mantenimento dei livelli occupazionali. Abbiamo fatto un avviso per manifestazioni di interesse, sono arrivate due manifestazioni di interesse. Una che conferma quanto già programmato in passato e una nuova proposta. Rispetto alle due chiederemo le dovute garanzie e verificheremo se ci sono i presupposti per l'affidamento di una gestione temporanea. Se così fosse lo faremo con le dovute garanzie soprattutto per i lavoratori, altrimenti andiamo avanti così come siamo andati avanti fino ad oggi. Preoccupati i sindacati secondo cui l'ulteriore battuta d'arresto potrebbe mettere a rischio la cassa integrazione. Torniamo sul riconoscimento dell'area di crisi. Un passo avanti è stato fatto ma non si può solo aspettare. L'appello giunge dal segretario regionale della CISL Giovanni Notaro. In questi giorni si legge nella nota del segretario a legge a un clima di soddisfazione legittimo, soprattutto dopo l'incontro al Mise dove è stata ufficialmente aperta la procedura. Quello che preoccupa, prosegue Notaro, è come mai non si riesca a replicare questo modo di operare sulle tante vertenze aperte sul territorio. L'impressione che il regione a crederci siano in pochi è sempre gli stessi, mentre gli altri stanno a guardare. Invece uniti abbiamo qualche speranza, conclude la nota del segretario CISL Notaro. Ancora un incontro allo zuccherificio del Molise. Questa volta l'imprenditore Diego Volpe Pasini ha voluto vedere tutti i sindaci della zona per illustrare il proprio ambizioso progetto, ma soprattutto per chiedere agli agricoltori molisani collaborazione coltivando barbabietola da zucchero. Continuano gli incontri ormai con cadenza settimanale allo zuccherificio del Molise. Questa volta la nuova gestione capitanata da Volpe Pasini ha voluto incontrare i sindaci della zona per quella che ha detta dell'imprenditore un'operazione di trasparenza dopo anni di sotterfugie malintesi. Un appuntamento in cui il manager ha fatto il punto della situazione su come intende operare da qui ai prossimi mesi e in cui ha lanciato un appello agli agricoltori molisani, quello di lavorare per l'impianto di Pantano Basso producendo barbabietola da zucchero. Abbiamo invitato i sindaci a vedere questa meravigliosa fabbrica che è la fabbrica del Molise. È un grande appello agli agricoltori, al mondo agricolo e ai proprietari terrieri del Molise. Se avete terreni liberi o incolti, metteteci a disposizione, dateceli in affitto, li prendiamo in conduzione, troviamo immediatamente un accordo. È un messaggio chiaro e preciso. Parte da quest'anno una fabbrica che sarà il centro di decine di migliaia di ettari agricoli del Molise. All'incontro ha preso parte anche il presidente della provincia De Matteis, rimasto colpito dal progetto ambizioso del manager friulano e soddisfatto del fatto che l'impianto non punti più sul denaro pubblico per stare in piedi. Il rilancio di questa azienda, di questo stabilimento, significa dare occupazione, significa una ripresa economica e penso che tutto questo ci possa essere. Quindi da parte degli amministratori dei sindaci c'è tutto l'interesse affinché questo avvenga. Ritengo che per la prima volta abbiamo un imprenditore che camminerà sulle proprie gambe. A differenza degli anni passati in cui questo stabilimento che aveva, era l'unico stabilimento d'Italia a partecipazione pubblica che ha sempre elargito danaro, danaro e danaro, io penso che oggi il pubblico debba uscire fuori ma favorire l'imprenditore che vuole investire e vuole portare avanti dei programmi ambiziosi come questo. A margine dell'incontro Pasini ha dato in là ad un tour guidato dell'azienda, in particolare del reparto confezionamento e stoccaggio, e ha annunciato in anteprima che lo zucchero del Molise a maggio sarà all'Expo di Milano, in quella che è di fatto una vetrina importantissima per il rilancio dell'azienda basso molisana. Finta badante, narcotizza e deruba un anziano, protagonista della vicenda, una giovane di 21 anni di portocannone finita ai domiciliari in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia. Secondo quanto appurato dalle indagini dei militari, l'anziano è stato contattato telefonicamente da una donna sconosciuta che si offerta come badante. La donna, però, invece di prestare le proprie cure all'anziano, lo ha derubato dell'auto, di due cellulari e di una somma di denaro. Attualmente è al vaglio degli investigatori la ricerca di eventuali complici della donna. Passiamo adesso alla sanità. Dopo i tagli previsti dal decreto Balduzzi, c'è preoccupazione per la sanità pubblica molisana e per i livelli minimi di assistenza. Per questa ragione comitati e cittadini si sono riuniti per esprimere le proprie perplessità e il proprio no alla privatizzazione della sanità e servizio. In Basso Molise la sanità, come del resto in tutta la regione, resta un tema caldo a termoli per discutere della questione. In particolare dopo i tagli previsti dal decreto Balduzzi, si sono riuniti comitati e semplici cittadini. Una riunione molto partecipata che ha messo in risalto le criticità del sistema sanitario regionale. Riteniamo in questo momento la sanità pubblica molisana fortemente a rischio perché in qualche modo stretta tra una morsa, tra quella del debito sanitario appunto molisano e tra quello che gli viene imposto dal decreto Balduzzi, dal governo Renzi e il comune di Molinatore, che comunque sono tagli alla sanità. All'incontro ha preso parte anche Lucio Pastore del Comitato Bene Comune Veneziale di Sernia, il quale si è soffermato sullo squilibrio esistente tra il settore pubblico e quello privato della sanità regionale. Quello che noi notiamo è che viene toccato essenzialmente e solo la struttura pubblica, che significa che il 30% del fondo che già è destinato ai privati, quindi 170 milioni di euro in una regione che ha una pletora di strutture pubbliche, avrà un ulteriore spostamento di questo fondo verso i privati. Per questo motivo pensiamo che la popolazione molisana deve prendere una posizione netta. Se rinunziare a un diritto come la salute, che deve rimanere bene comune, o la vuole che venga trasformata in merce. Insomma, il monito che viene sollevato da cittadini e comitati è solo uno, giù le mani dalla sanità pubblica, poiché devono essere garantiti livelli minimi assistenziali a tutti in maniera indistinta e non solo a chi ha il portafoglio più grande. Il primario del pronto soccorso di Larino, Angelo Camillo, è il nuovo responsabile del pronto soccorso degli ospedali di Venafro e Isernia. La decisione è stata assunta dall'ASREM. Camillo dunque prende il posto di Lucio Pastore fino a ieri primario, facente funzioni degli ospedali veneziali e Santissimo Rosario. Una decisione accolta non senza polemiche, non si capisce infatti come un medico che presta servizio a Larino possa coprire adeguatamente reparti d'emergenza di Isernia e Venafro. Torniamo alla cronaca. Sono all'avvaglio degli inquirenti le ragioni che hanno portato un uomo sessantenne di Termoli a tentare di togliersi la vita gettandosi per la seconda volta dal balcone della propria abitazione in via Mantua. L'uomo con diversi precedenti penali alle spalle era in stato di ubriachezza e prima del folle gesto avrebbe anche aperto il gas in casa, prima del salto nel vuoto. Il sessantenne ha riportato un trauma cranico e diverse fratture ed è tuttora ricoverato all'ospedale Santimoteo di Termoli. Split payment Imo Agricola, istituto zoo profilattico dell'Abruzzo e del Molise al centro dell'ultima seduta del Consiglio regionale. I dettagli nel servizio. Il Consiglio regionale approvato con la sola stensione del consigliere Nicola Cavaliere è la proposta di legge dell'Aggiunta regionale di riforma dell'Istituto Zoo Profilattico dell'Abruzzo e del Molise, un ente pubblico sanitario che offre servizi ad alto contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della sanità animale, della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e della tutela dell'ambiente per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo. A relazionare all'Assemblea sull'argomento, il consigliere regionale Domenico Ioffredi, che ha evidenziato come, in assenza di un'approvazione entro il 31 marzo, l'Istituto verrebbe commissariato. Intanto, in mattinata, dopo le consuete comunicazioni all'Assemblea, si è proceduto con un ordine del giorno split payment, la cui iscrizione e immediata discussione sono state chieste e ottenute all'unanimità dal consigliere Cotugno. È stato lo stesso consigliere di rialza Timolise a illustrarlo all'aula. Con l'ordine del giorno votato all'unanimità, si impegna il Presidente della Giunta regionale ad adoperarsi presso il Governo per il tramite della Conferenza Stato-Regioni, per verificare la possibilità di ottenere il ritiro della norma o la sua abrogazione, sollecitare un'azione comune da parte della Conferenza delle Regioni a fine di accertare la legittimità costituzionale della disposizione, e in ultimo coinvolgere l'intera delegazione parlamentare molisana nel sostenere l'azione presso il Governo affinché sensibilizzi il Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'opportunità di ritirare la norma sull'ascissione dei pagamenti. All'unanimità, con una modifica concordata dopo una breve sospensione dei lavori, è stata votata anche la mozione avente ad oggetto l'IMU sui terreni agricoli. Obiettivo? Un tavolo tecnico di concertazione che coinvolga l'assessorato competente, l'Anci Molise, le organizzazioni e le rappresentanze agricole. Unanimità è stata raggiunta anche sulla mozione leggermente modificata dall'Aula, a firma dei consiglieri Fusco Perrella, Sabusco Iorio e Cavaliere riguardante l'istituzione del Laboratorio Regionale di Tossicologia. E sempre sull'IMU agricola, il Governo ha colto in parte l'emendamento presentato dal senatore molisano del PD Roberto Ruta, ovvero 200 euro di detrazione per i possessori di terreni nei comuni non montani. Per quanto riguarda il Molise, nei comuni montani c'è quindi l'esenzione totale dell'IMU. Nei comuni parzialmente montani c'è l'esenzione per gli imprenditori agricoli e per i coltivatori diretti. Per i restanti 13 comuni non montani è prevista la detrazione di 200 euro per quanti sono tenuti a versare l'imposta. È un passo avanti, ma resto convinto che l'esenzione totale per l'anno 2015 sia la soluzione migliore per questa ragione. Ho presentato un altro emendamento per l'eliminazione dell'IMU, il commento del senatore PD. Al tartufo il compito di rappresentare il Molise all'importante vetrina dell'Expo di Milano. Il presidente della Regione Molise, Frattura, ha incontrato associazioni di categoria identi per condividere gli indirizzi e l'attuazione delle singole iniziative e relativi alla partecipazione della Regione Molise all'esposizione e servizio. Una vetrina importante, quella dell'Expo 2015, un'occasione unica anche per il Molise, chiamato a saper cogliere la curiosità dei tanti visitatori attesi a Milano, che potranno essere i turisti del domani. Con questo intento il governatore Paolo Frattura ha incontrato a Palazzo Vitale gli amministratori locali e le aziende per presentare loro i progetti della Regione per l'Expo. La Regione Molise ha individuato dei filoni che ora, grazie alla collaborazione di tutti e alla sinergia con le varie amministrazioni comunali, vanno riempite di contenuti. Il presidente Frattura ha fornito ai presenti tutti i dettagli. Al Molise sarà dedicata la settimana che va dal 17 al 23 luglio. 200 metri quadrati lo spazio riservato a disposizione e che sarà preallestito. Palazzo Vitale sta per bandire un'apposita gara per la personalizzazione di questa vetrina. Quanto al prodotto per eccellenza che possa rappresentare al meglio la Regione, la scelta è ricaduta sul tartufo. A metà marzo una truppa sarà in Molise per girare i filmati nei luoghi che rappresenteranno la Regione a Milano. Da segnalare anche gli eventi che si terranno nei mesi dell'Expo inseriti nel sito Very Bello, il portale degli eventi legati all'esposizione universale. Torniamo in Basso Molise dove la forestale ha denunciato un uomo per abbandono di rifiuti speciali. Si tratta del titolare di una ditta di trasporti colto in flagrante mentre scaricava olio esausti, solventi e tanniche nel bosco tra San Giacomo degli Schiavoni e termoli invece di trasportare il materiale negli appositi centri di smaltimento. La sua posizione ora al vaglio del magistrato competente. Il presidente dell'Associazione Cultura e Solidarietà Aldo Di Giacomo ha presentato in una conferenza stampa il progetto nazionale La Mela della Speranza che metterà a disposizione di ragazzi provenienti da centri d'accoglienza un posto dove poter lavorare e studiare. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Solitamente ragazzi tolti alla potestà familiare dei propri genitori e inseriti nei centri d'accoglienza di tutta Italia, al diciottesimo anno d'età devono lasciare il posto che li ha accolti ed affrontare per la prima volta la vita al di fuori, con tutto ciò che ne comporta trovare un lavoro, una sistemazione ed inserirsi nuovamente nella società. Proprio per questo l'Associazione Cultura e Solidarietà, presieduta dal dottor Aldo Di Giacomo ha varato un progetto nazionale chiamato La Mela della Speranza per accogliere nuovamente giovani lasciati soli, dare loro un luogo sicuro e mettere a loro disposizione un posto dove poter lavorare e studiare. Un'iniziativa già intrapresa dalla stessa associazione nelle Marche dove su 12 ragazzi inseriti, ben 11 sono riusciti a laurearsi ed una ha già intrapreso una carriera lavorativa. Tutto spiegato nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Casa Accoglienza Maria Annibale di Francia a Campobasso. In 180 piazze il 29 di marzo si venderanno delle mele e il ricavato servirà per creare in Molise un centro in cui verranno ospitati sette ragazzi che escono dal centro di accoglienza di tutta Italia. È un progetto importante, ho scelto il Molise per la realizzazione perché il Molise ha moltissimo da offrire, una zona pulita da questo punto di vista in cui questi ragazzi che vengono in una situazione di enorme difficoltà possono maturare e crescere assolutamente in un ambiente sano. Associata a questo progetto anche una serie di eventi culinari che vedranno la partecipazione di importanti chef nazionali. giusto per citarne qualcuno, il celebre Gianfranco Vissani che verrà presentato nei prossimi mesi. A dare lo start a questa iniziativa lo chef beneventano di fama internazionale Francesco Bibò, presente in conferenza stampa e proveniente dal Sinfonia di Zurigo che delizierà i palati molisani il prossimo venerdì 27 febbraio al ristorante Gran Caffè Savoia. Successivamente saranno in programma anche dei corsi culinari per i ragazzi inseriti nei centri accoglienza. Invito tutti i molisani che guarderanno questo servizio a partecipare a questa cena di venerdì 27 febbraio al ristorante Savoia alle ore 20. 20 euro, un menù straordinario, un cuoco straordinario Francesco Bibò che proviene da Ristoranti Stellati. Apriamo la pagina sportiva. Piccoli spiragli in casa Termoli dopo l'incontro avuto in comune ieri sera tra società tifosi e amministrazione locale. Infatti il presidente Calarco è dimissionario ma resta in sella fino a fine marzo mentre il tecnico Casu è stato esonerato. Inoltre torna come direttore sportivo De Filippis. Ora a lui è stato affidato il compito di trovare una nuova guida tecnica. I dettagli nel servizio. Continuano i colpi di scena in casa Termoli in controfiume quello di ieri presso il municipio termolese tra società, amministratori locali e tifosi. Presente anche Calarco che ha preso degli impegni precisi. Resta come presidente fino a fine marzo cioè fino a quando non metterà i conti in ordine ma è comunque dimissionario come lo è la cognata ormai ex amministratrice della società giallorossa. Il presidente Calarco è venuto di fronte alle istituzioni ha preso i suoi impegni anche rispetto a me che sono ancora un componente della società sebbene dimissionario da ottobre è rimasto soltanto come elemento di garanzia per questa fase di transizione infatti comunque finito a questo caos andrò via comunque. Quindi l'obiettivo è salvare il termolicalcio io da cittadino e da tifoso spero questo sono diventato anche un operatore economico in città quindi penso che il calcio sia una cosa importante l'amministrazione si è fatta carico di quello che poteva cioè di ricucire un po' lo strappo fra la città e la società. Un incontro in cui l'ente locale Basso Molisano ha svolto il ruolo del mediatore per il bene della squadra al fine di far raggiungere alla società l'obiettivo della permanenza in Serie D. Si è cercato di trovare una soluzione che possa consentire al termolicalcio di proseguire il campionato e di raggiungere l'obiettivo che è quello della salvezza l'obiettivo minimo della salvezza è il mantenimento nella Serie Nazionale di Lettanti quindi si è raggiunto un chiarimento tra il Presidente Calarco e il Capitano Falco sia dal punto di vista economico per quanto riguarda quindi gli arretrati che i calciatori devono ancora percepire e quindi c'è stato l'impegno del Presidente di onorare e di provvedere al pagamento sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico si è comunque incrinato e questo oramai è alla luce del giorno il rapporto tra i calciatori e l'allenatore quindi il Presidente Calarco ha dato la sua disponibilità qualora la squadra appunto l'ha richiesto di procedere anche all'esonero del tecnico se questo serve a riportare serenità all'ambiente. Insomma morale della favola Casu è stato esonerato e ora al suo posto arriverà un nuovo trainer e questo compito è stato affidato a Pino De Filippis che torna momentaneamente direttore sportivo della società o meglio di quel che ne resta da oggi però è tempo di concentrarsi sulla complicata e quasi impossibile trasferta di Fano. Mister Cosco continua la sua battaglia contro il cancro e ringrazia tutti per la vicinanza l'allenatore di Santa Croce dallo scorso dicembre ha iniziato la sua dura lotta che nell'ultimo periodo ha avuto delle complicanze ma detta del dottor Lanzetta ora le cose vanno leggermente meglio. Cosco ha terminato la radioterapia al bacino adesso sta anche camminando dopo un paio di settimane durante le quali è stato costantemente a letto. Il fattore positivo è che Vincenzo Cosco anche nei momenti più difficili è rimasto sereno, lucido, ottimista e combattivo. Ha tanta voglia di lottare e questo sta aiutando il suo difficile percorso ha concluso il dottore. Continuiamo a parlare di Serie D il Campobasso lavora per preparare la prossima sfida di campionato contro il Chieti intanto non si allenerà nemmeno nella giornata odierna l'esterno difensivo Emilio Nicolai alle prese con un brutto infortunio che l'ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco nella gara vinta contro la Re Canatese mercoledì infrasettimanale di duro lavoro per il Campobasso Targatovullo oggi infatti proseguirà il lavoro dei Rossoblu che porterà la trasferta di domenica prossima a Chieti contro i Tiatini Neroverdi intanto nella giornata di ieri tanto lavoro aerobico ad alta intensità per chi non è stato impiegato contro la Re Canatese insieme all'allenatore in seconda Antonello Corradino mentre per l'undici titolare domenica scorsa soltanto lavoro a basse frequenze per concludere l'allenamento anche una partitella a ranghi misti che dovrebbe essere riproposta dalla Rosa anche nell'allenamento odierno seduta differenziata dal resto della squadra per Pani, Vitelli e Marinucci Palermo per recuperare dagli acciacchi settimanali mentre non ha preso parte agli allenamenti Emilio Nicolai sicuramente il più vivace dei suoi nella prima mezz'ora contro la Re Canatese ma costretto ad uscire dal campo nel primo tempo per un infortunio che dunque sembra più grave del previsto ovviamente la speranza dello staff è di recuperarlo per domenica ma nel caso in cui non dovesse farcela molto probabilmente vedremmo lo stesso copione del Selvapiana con il giovanissimo La Penna pronto a prendere il suo posto intanto sul fronte opposto delle avversarie rosso-blu si parla del campo basso infatti sul sito web cronacemaceratesi.it l'articolo di Enrico Maria Scattolini che ha riepilogato questa giornata di Serie D con la Maceratese in testa fa parlare sì perché si parla del futuro prossimo con il campo basso che dovrà ospitare nel girone di ritorno la Maceratese tra le muramiche un campo basso definito dal giornalista marchigiano in agguato e con uno stadio splendido quello di Contrada a Selvapiana è pronto ad ospitarli ma torniamo in terra nostra perché nella giornata di ieri ha compiuto ben 80 anni lo storico allenatore del campo basso in Serie B Antonio Pasinato la redazione di Molise TV l'editore di Colleghi Tutti si associano ai festeggiamenti ringraziandolo per il lavoro svolto negli anni d'oro della squadra molisana Calcio regionale anche quello di oggi sarà un mercoledì ricco di appuntamenti calcistici e di recuperi infatti nel massimo campionato regionale scenderà in campo l'Isernia contro il vasto Girardi per recuperare il turno di campionato rinviato a causa della neve in promozione invece sarà sfida tra Spinete e Alife valido per la 22esima giornata del campionato di promozione dal calcio al rugby si terrà a Campobasso la sesta giornata della Coppa Italia femminile esordio casalingo per le ladies del Cus Molise Rugby che domenica primo marzo ospiteranno al campo sportivo Acli di Contrada Selvapiana la sesta tappa della Coppa Italia Seven Rugby femminile sette le squadre in gara nel girone campano dieci le tappe che porteranno le migliori formazioni signores a contendersi il titolo nel weekend del 23-24 maggio una domenica all'insegna dello sport e del divertimento che vedrà circa un centinaio di atlete sfidarsi sul sintetico delle Acli a partire dalle 14.30 e con questo è tutto grazie per averci seguito vi lascio ora le previsioni del tempo per la giornata di domani arrivederci il meteo il risparmio è di casa HarlemDesign Arredamenti.it seguici anche su Facebook Previsioni del tempo per giovedì 26 febbraio giornata con un cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e acquazzoni a carattere sparso e nevicate sulla dorsale appendinica sopra i mille metri ventilazione tesa dai quadranti sudorientali con mari fino a mossi o molto agitati specie all'arco campo basso minima 5 massima 6 gradi isernia minima 5 massima 10 gradi termoli minima 9 massima 12 gradi il meteo è stato offerto da dal 24 febbraio al 30 aprile HarlemDesign presenta Svuota Harlem 1500 metri quadri di fuori tutto 1500 motivi per fare affari cogli le ultime occasioni su tutti gli arredi in esposizione Svuota Harlem è semplice guarda tocca e porta a casa ti aspettiamo nello showroom di Vinchiaturo anche la domenica pomeriggio vieni con tutta la famiglia questa primavera da Harlem Design il risparmio è di casa HarlemDesign arredamenti.it seguici anche su Facebook il risparmio è di casa e non ha il risparmio è di casa la tua